Devo dire che avete avuto imprenditori lungimiranti e capaci di fare offerta turistica di qualità e quindi questo ha fatto aumentare i flussi turistici nella vostra ragione che è bellissima. Bisogna lavorare, bisogna spendere e far atterrare i soldi del PNRR e anche spendere soprattutto i fondi europei di coesione e di sviluppo. Dobbiamo aiutarci insieme come squadra a migliorare anche le infrastrutture che sono un punto importante per fare aumentare i flussi turistici. Però vivete in una regione meravigliosa, siete fortunati. Ricordatevi che quando promuovete la Puglia fate il cappello sull'Italia. Ci chiamiamo AnExpette d'Italia, l'Italia che non ti aspetta. Mettetela perché siamo il terzo marchio al mondo, abbiamo un elemento competitivo che ci differenzia da tutte le altre nazioni. Lo facciamo, Ministro. E quindi l'Italia. Viva la Puglia.